Il comitato promotore della Banca Popolare di Prato cerca nuovi soci e uno stagista. Non ha ancora aperto i battenti che già la Banca Popolare di Prato è in cerca di personale. Il comitato promotore del nuovo istituto di credito, ancora in fase progettuale, offre un posto retribuito da stagista che avrà l'opportunità di seguire tutto l'iter costitutivo della banca e magari, perché no, diventare il primo dipendente della filiale. Il candidato ideale, fanno sapere, è un giovane laureato in discipline economiche con spiccato interesse verso il mondo del credito, ma saranno valutate anche candidature di diplomati. Con questa novità il comitato promotore della BPP entra nel vivo dei lavori dopo una prima fase di incontri con istituzioni, associazioni di categoria e cittadini. Proprio ieri sera si è tenuto un incontro con chi ha chiesto di aderire al progetto, prevalentemente giovani imprenditori, professionisti, ma anche impiegati e semplici cittadini. Obiettivo allargare l'assemblea dei soci. Siamo dieci volenterosi che hanno partecipato alla creazione del primo nucleo del comitato promotore e oggi ci allarghiamo per raccogliere altre persone che vogliono collaborare con noi al fine di ottenere questa autorizzazione e speriamo decollare come Banca Popolare di Prato. Per poter diventare una banca vera e propria, l'ambizioso progetto di ridare ai pratesi un istituto di credito del territorio dove apprima passare al vaglio della Consob, chiamata a valutarne il piano industriale, poi potrà cominciare la raccolta del capitale sociale tra i soci. La Consob parla di 40 giorni per l'ottenimento dell'autorizzazione e la media è di 6 mesi. Diciamo che per metà dell'anno prossimo potremo iniziare la raccolta, si spera, forse anche prima, e avremo una finestra di un anno per poter raccogliere queste sottoscrizioni. Successivamente l'iter della Banca d'Italia, anche esso è abbastanza prolungato, ma si pensa a 6 mesi. Un iter lungo e complesso impegnerà dunque il gruppo di lavoro per un periodo stimato intorno ai 3 anni.